Un'arte è quella della pasticceria e dei gelati nel corso degli ultimi anni che è sempre più seguita, tanto anche tra i ferraresi che si dilettano a cucinare in casa. Ora a Ferrara c'è l'occasione di vedere all'opera grandi pasticceri nei corsi che da lunedì partiranno in via Zandonai grazie alla FIPGC, la Federazione Internazionale Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria che ora ha la sua sede ufficiale dell'Emilia Romagna nella città estense. Il nostro obiettivo è comunque intanto uscire dal laboratorio e cercare di confrontarci perché c'è anche la possibilità di crescere confrontandosi e poi di trasmettere, perché lo ritengo sia anche un dovere, trasmettere anche ai più giovani la conoscenza del nostro lavoro che è un lavoro bellissimo però a parte il sacrificio, per esempio gli sacrifici, bisogna conoscerlo bene, bisogna conoscere veramente il lavoro per farlo in un certo modo. La pasticceria è chimica e insieme di cose che bisogna sapere e saperle anche impiegare, oltre ad essere anche un lavoro artistico. Corsi dedicati ai professionisti ma anche ai principianti in una sede di un'azienda ferrarese in via Zandonai che ha alle spalle più di cento anni di storia nel campo della pasticceria e della gelateria. Una grande tradizione, per noi questo è stato un naturale passaggio quello di poter unire la nostra vocazione a produzione con chi realmente tutti i giorni utilizza i prodotti e li fa diventare non solo da delle materie prime a dei veri capolavori. Poter confrontarci anche ogni giorno con dei professionisti, per noi a nostra volta poter fare dei semilavorati di alta qualità e sempre con i consigli giusti perché nelle aziende si hanno delle buone idee poi nella pratica bisogna avere anche il conforto e il confronto con dei professionisti. Noi qui avremo, grazie a Vaira che ci ha ospitato appunto per la sede, ha allestito appunto una sala per fare questi corsi e qui avremo la possibilità di chiamare dei docenti i nostri tesserati anche i campioni del mondo quindi abbiamo proprio il fiorfiore dell'eccellenza della pasticceria. Il primo corso che faremo verrà addirittura Matteo Cutolo che oltre ad essere campione del mondo 2017 è anche il nostro vicepresidente e niente, verrà proprio qui a dimostrarci come viene fatto il gelato, il bilanciamento, i semifreddi.